Viva è la settimana di sensibilizzazione dedicata all'arresto cardiaco e alla reanimazione cardiopolmonare. Vogliamo ricordare che salvare una vita è possibile imparando poche manovre alla portata di tutti. Manovre semplici che chiunque di noi sarebbe in grado di fare in caso fosse testimone di un arresto cardiaco. Pochi gesti ma capaci di salvare la vita di una persona. Informiamoci insieme dal 13 al 19 ottobre. Visita il sito www.settimanaviva.it